Dario Nardella, attuale sindaco della città di Firenze, è riuscito a guarire dal Covid, dal coronavirus. È stato lo stesso attuale sindaco ad annunciare la guarigione dal Covid e il ritorno al lavoro nell'ufficio di Palazzo Vecchio. Dario ha postato infatti nei social network anche un'immagine che lo ritrae davanti al computer con un sorriso splendente e soprattutto soddisfatto di questo rientro a lavoro. Dunque ha pubblicato questa foto con tanto di da scarica e recita finalmente a Palazzo Vecchio. Dunque ritorno alla vita di sempre, al suo amato lavoro, quello di essere il sindaco della città forse più bella di tutta Italia. Insomma un ritorno per lui stesso al lavoro e ovviamente la positività di cui purtroppo è stato protagonista sembra essere effettivamente parlando sparita in lui. Dunque diventa a tutti gli effetti negativo, quindi guarito dal Covid. Il video termina qua, iscrivetevi al canale narratore italiano, commentate un saluto nei cari e complimenti a Dario Nardella.